E' prevista per domattina la conferenza stampa del sindaco d'Imperia Carlo Capacci, nella quale il primo cittadino dovrebbe finalmente sciogliere la riserva circa la sua ricandidatura alle prossime elezioni amministrative. Se Capacci deciderà di non ricandidarsi, il gesto suonerà come un via libera al vice sindaco Guido Abbo per accettare l'offerta di candidatura a sindaco che gli è stata avanzata dal Partito Democratico. Diversamente è facile che Abbo faccia un passo indietro per non trovarsi a dover fronteggiare Capacci, al quale è legato da una grande amicizia. Sempre sul fronte delle votazioni del 10 giugno ad Imperia, giovedì sera Claudio Scaiola alle 18 terrà un incontro con sostenitori e simpatizzanti ai sogni d'estate di Oneglia per il brindisi di avvio della campagna elettorale. Dal fronte opposto del centro-destra, la coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Luca Lanteri sta invece lavorando alla predisposizione di ben 5 liste, con 32 candidati ciascuna, per un totale di 160 persone in corsa per un posto da consigliere comunale. Ci saranno Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, la civica del sindaco legata a noi con l'Italia e un'altra lista civica, che non sarà però quella arancione di Toti.